Si aggiunga la prima prova del campionato nazionale di Serie B al primo posto a Falciai-Arezzo. La squadra retina della ginnastica a Falciai ha esordito splendidamente nel campionato di Serie B, vincendo la prima prova a Chieti e mettendosi in testa alla classifica provvisoria del campionato. Le ginnaste a retina erano giunte nella cittadina abruzzese sabato sera, partendo proprio da Arezzo. Domenica sono scese in pedana e hanno sfoderato una bella determinazione, tutte artefici di una prestazione grazie alla quale si sono aggiudicate la vittoria. Rachele Rossi al cerchio, Ginevra Bindi alle clavette, Sofia Boschi al nastro, con il contributo della via regina Isabel Puccinella alla palla, sostenute a bordo pedana da Maria Vittoria Berti e Sofia Celestini. Le ragazze sono state guidate tecnicamente da Cristina Cammelli, responsabile della squadra, e da Caterina Moretti. Siamo veramente contenti e soddisfatti per questo inizio di campionato, commenta Michela Domini, tecnica responsabile del settore gold. Le ragazze hanno condotto una bellissima gara, in società abbiamo tutti festeggiato e gioito. Non ci adagiamo, però continuiamo a lavorare perché abbiamo ancora altre prove da affrontare e dobbiamo cercare di dare il meglio e di arrivarci preparati nel migliore dei modi.